Bentornati dunque allo stadio Giro Savoia e Nuovo Cosenza hanno appena effettuato l'ingresso in campo squadre schierate partiti in questo istante il Savoia gioca il primo pallone della gara con Di Capo Sicignano in avanti a cercare subito il numero 10 Guadaluppi, attenzione il destro, lo Cisano con una mano respinge male e il Cosenza coglie poi un clamoroso palo con il numero 8 Fiore attenzione a Mosciaro, 25 gol per il capo canonire del girone, lo scarico sulla sinistra per Fiore ancora Mosciaro in area di rigore, il sinistro, il Cosenza in vantaggio Cosenza in vantaggio al quarto minuto esatto, il 26esimo gol stagionale di Manolo Mosciaro con il numero 6 Filidoro, lo scambio questa volta che non riesce con Fiore recupera però palla Mosciaro, Mosciaro alla tre quarti, prova ancora il destro controllo, Cisano si addormenta, il fischio del direttore di gara, tutto pronto la battuta di Mosciaro con il destro che fa la barba al palo Rese poi sembra intenzionato a cercare la testa di qualche compagno in area di rigore parte il traversone di sinistro di Malafronte verso Vicentin che è solo in area attenzione il cross in favore di Guarro che prova a coordinarsi per la battuta quadra sempre nell'occhio del ciclone, una società sempre nell'occhio del ciclone attenzione adesso Guadalupe in area di rigore, 2-0 Cosenza, 2-0 Cosenza ci stavamo dilungando sui vari striscioni polemici Guadalupe attenzione appoggia per Mosciaro, Mosciaro entra in area di rigore il numero 9, il gran destro fuori Cignano poi però non demorde l'attaccante argentino che va a recuperare il pallone Padunano Malafronte, ottima la triangolazione Vicentini con il piatto destro rimpallato poi Guarro il sinistro alla parata di Perry, gol, gol riapre il match il Savoia con una clamorosa papera Pulano che prova a girarsi in area di rigore poi tocco all'indietro per Nasto, la botta di sinistro fuori i tifosi del Savoia spongono un nuovo striscione con su scritto per Messina anziché il ritiro le 5 del mattino intanto Savarese ci prova al limite dell'area con il sinistro vellutato alto tutto pronto dunque per la ripresa del gioco qui al Girono, ben controllato dalla difesa del Cosenza lanci in avanti per Mosciaro in area di rigore sinistro, traversa, poi Fiore, rete il 3-1 del Cosenza ancora i silani che manovrano, lanci in avanti proprio per Mosciaro Mosciaro, salta lo Cisano e poi con il sinistro ha provato a beffare il portiere del Savoia tiro però respinto in corner traversone, gran gol al volo di Parenti fondo, accelera sul pallonetto traversone al centro contrato, poi un nuovo cross di Cavallario che ha anche fortuna in ruolo in pallo palla al limite dell'aria il destro, bene in casa, 5-1 rosso qui non 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 Grazie a tutti